salve a tutti ragazzi sono inferno 86 e sono qui oggi per presentarvi un nuovo gioco uscito da qualche giorno online che si chiama planet commander devo dire che questo gioco mi ha suscitato molta fantasia perché è un gioco veramente bello io amo i giochi di navicelle spaziali o comunque giochi sparatutto dove possiamo spaccare il culo a tutti i nostri nemici l'unica pecca di questo gioco è che le navicelle scusate ritiro il mio premio non faccio da word perché sennò devo guardare il video e non mi sembra il caso devo dire che il gioco è molto ma molto bello purtroppo le navicelle spaziali sono quasi tutte a pagamento e c'è una pecca ragazzi che veramente mi fa girare i coglioni i comandi fanno cagare ma non così di più cioè ragazzi io amo le levette mica ma mettete le levette quanto mettete una cazzo di levettina che potete spostare la navicella dove cazzo volete già i giochi sono impestati come l'ostia perché ci sono quei maledetti sciopponi del cazzo che non vi permettono di giocare e in più porca puttana i comandi fanno cagare c'è sto gioco veramente ragazzi merita un casino cioè è un gioco veramente ma veramente bello ha una grafica molto ma molto figa ma porca puttana i comandi fanno cagare ma andiamo a fare una piccola battaglia online giusto per vedere in cosa consiste questo bellissimo gioco perché ragazzi il gioco è spettacolare ha una grafica veramente ma veramente bella ma porca troia veramente ragazzi io sono incazzato come una ghiera si vede si vede guardatemi bene sono incazzato nero qua scegliamo la nostra navicella e saremo a squadre contro altri giocatori e dovremo fare il culo sparando di tutto cioè guardate ragazzi la grafica è strafiga cioè guardate la navicella il primo comando questo qua è da accelerare adesso gli spaccheremo il culo a qualcuno se non ci ammazzano prima porca troia che esplosione come cazzo fatto a prendere fuoco questo modo ma stiamo scherzando poi ragazzi come si c'è la telecamera veramente fa anche quella molto schifo saliamo un po di quota e andiamo a spaccare il culo a f1 sing se non ci ammazzano prima noi cioè ragazzi il gioco è spettacolare cioè non l'ho preso una volta però è spettacolare mi stanno ammazzando ragazzi aspettate che lanci i missili ma ma vaffanculo va ma come è possibile niente prendiamo un'altra navicella ragazzi perché veramente mi fa girare i coglioni sto gioco è molto bello ma dio buono ho potenziato le navicelle con quei quattro soldi del cazzo che mi hanno dato e porca puttana cioè io io mi chiedo ma quanto cazzo ci vuole a fare due levette dove cazzo mi stanno sparando da sotto da sopra è una è morta e sono morto pure io ma ma non è possibile ragazzi cioè ma ma vi rendete conto porca puttana scusate un po la luce che fa abbastanza cagare c'è un po luminescenza troppo da questo lato e non mi fa vedere il mio bel visino o porca puttana ho preso sta cazzo di navicella credendo che era forte è una grandissima merda l'ho potenziata e non è servito un cazzo ci impiega un quarto d'ora a girare e quando devo sparare non spara oh l'ho presa strano ma vero ecco un lag giusto per romperci i coglioni ancora di più cioè il gioco è bellissimo ragazzi solo che i comandi e la telecamera fanno alquanto cagare cioè il gioco è veramente fatto bene perché porca puttana guardate che grafica che già se lo facevano un pochettino meglio poi c'è qualche lag grafico che veramente mi fa girare i coglioni però guardate la navicella che figa che c'è questa fa cagare però comunque non è male dai adesso abbiamo stila grafici non riesco a capire perché che mi stanno facendo girare il quanto i coglioni no era mio maledetto cioè poi la telecamera ragazzi cioè ho abbassato la sensibilità eppure ho ammazzato solo una cazzo di navicella guardate quanto ci impiega a girare questa cazzo di navicella c'è già sto prendendo fuoco e cioè guardate che lag di merda no ragazzi non è possibile ho sbagliato tasto sto andando incontro alla mia morte ragazzi sono tutti davanti a me e sono morto quasi cioè abbiamo sti lag ragazzi veramente cioè il gioco è nuovo ma vaffanculo va cioè il gioco è veramente bellino ragazzi niente da dire ma abbiamo dei lag che fanno veramente pena non vi fanno giocare benissimo ma mi girano i coglioni e poi porca puttana i tasti dai figa sta cazzo di telecamera che va dove cazzo vuole ha abbassato la sensibilità zibilli cioè veramente cazzo qua i premi sono salito il livello 11 ragazzi quando prendete i vostri premi potete fare prendere il doppio premio guardando un piccolo video che non vi farò vedere adesso perché se no già sono incazzato se lo starò lì pure a vedere i video abbiamo una piccola chat vi faccio vedere qua c'è pc italian ma non scrive mai un cazzo di nessuno vabbè ci sono un bel po di navicelle va bene ah qua devo andare qua e non me le fa vedere lo stesso che cazzo si andava zibilli vabbè niente ragazzi ehm il gioco è molto bellino provatelo scaricatelo ditemi se vi è piaciuto eh i comandi fanno alquanto cagare i lag anche ehm che dirvi ragazzi ehm siate siate cattivi nei commenti vi prego non nei commenti del mio video perché vabbè se siete cattivi vi mando affanculo però siete cattivi nei commenti del play store perché questo gioco lo trovate sul play store e metteteli qualche stellina in meno e mandateli affanculo perché veramente dai un gioco siamo nel 2017 mettete le cazzo di levette porca puttana va bene ragazzi e con questo chiudo perché non ho voglia di andare avanti ehm che dirvi ragazzi come sempre vi ringrazio per la visione del video e vi ricordo di mettermi mi piace ed iscrivervi al mio canale ciao a tutti dal vostro inferno 86 alla prossima